Di questo youtuber già ne abbiamo sentito parlare sul canale, già abbiamo visto alcune sue cose E stavo pensando meno se farci un video al riguardo dove vi raccontavo tutto ciò che era successo Ma secondo me è giusto così Ciao, benvenuti in questo nuovo video Oggi parleremo di Suchspeed, di quello che ha fatto negli ultimi mesi E a tutte queste cose lui a distanza di mesi ancora deve minimamente rispondere La cosa che è più assurda di questa storia è la tattica e i metodi che sta utilizzando Suchspeed Per poter continuare a far video normalmente rispetto a tutto quello che gli è successo E sta roba signori la sta facendo da anni ed è abbastanza assurda come tattica Tu non te l'aspetteresti minimamente come roba Ma cosa è successo a Suchspeed? Suchspeed signori è da anni che letteralmente truffa le persone che vanno a collaborare con lui Truffa server, truffa i suoi collaboratori, truffa anche i suoi iscritti Per avere più ascolti, per avere più commenti, per avere in generale più si dice in inglese engagement Suchspeed fa un finto giveaway in ogni suo video Per poter boostare a stecca la quantità di commenti e di interazioni che riceve al video Però signori tutti questi giveaway sono finti Anche perché un giveaway a video deve essere, non lo so, Elon Musk per poterlo fare E invece diciamo che si vede un po' il fatto che negli anni le persone si sono accorte di come è fatto Suchspeed E quindi nonostante il suo numero enorme di iscritti Siamo più o meno sulle mie stesse visualizzazioni Forse un po' di più, in alcuni video un po' di meno Comperò sette volte il mio numero di iscritti Diciamo che il putiferio lo ha fatto nascere tutto un suo editor che gli sono stati truffati quasi 2000 dollari E da lì poi dopo si è innescata tutta una reazione a catena Ma in segreto o comunque senza farsi notare Suchspeed truffa signori dal 2014 Cioè 8 anni Quindi non è che si è svegliato ieri Suchspeed e è iniziato a truffare le persone È una cosa che fa da anni, anni e anni Ed è riuscito senza problemi a poter continuare a far video Eccetera eccetera Comunque sponsor del video di oggi La sponsor del video di oggi è la community che ho creato Mi raccomando signori si è cercato un server discord Molto presto ci sanno anche altri youtuber appunto perché è una community in generale con più persone Mi raccomando entrateci dentro e venite a divertirvi con noi Ci sono delle prove video che vi mostrerò appunto durante il mio racconto su Suchspeed Che appunto dimostrano che i suoi giveaway sono finti Che non ha mai appunto dato via nessun account di tutti quelli che aveva promesso E abbiamo anche la dimostrazione, la testimonianza del suo manager nuovo e del suo vecchio manager Praticamente il suo manager era prima il proprietario di un server Minecraft Che lui voleva che gli venisse sponsorizzato Dove aveva pagato 1500 dollari per questa sponsor Per una serie di video promozionali Suchspeed ha fatto soltanto il primo video della serie di video che invece avevano accordato Nel frattempo Suchspeed ha perso il suo manager perché il suo manager non veniva pagato E questo ragazzo si è fatto raggirare Ed è diventato lui il nuovo manager di Suchspeed Nonostante appunto non ancora dovesse ricevere il pagamento completo La serie di video completa che gli dovesse venire fatta Ma dall'interno del sistema questo ragazzo ha assistito a tutte le truffe che faceva A botte di 500 dollari alla volta Erano tutte collaborazioni che iniziavano e mai finite Con tutte le persone invece con le quali collaborava Suchspeed Non andava mai a finire bene Non ha mai avuto buoni rapporti con nessuno E alla fine il ragazzo che era stato truffato Che poi è diventato il suo manager Che veniva soltanto pagato ogni tanto per il suo lavoro da manager E non riceveva mai il rimborso per i suoi video che non erano mai stati fatti Ha ricevuto una parte dei soldi dopo un anno e mezzo E ha avuto modo di poter assistere a tutte tutte le truffe che faceva Suchspeed Ora però nell'intro io vi ho parlato di un modo particolare che ha Suchspeed di comportarsi Suchspeed per questo scandalo ha perso il YouTube rank Perché iPixel allontana dal loro network tutte persone che truffano O appunto non sono persone adatte alla community Inoltre Suchspeed è andato molto spesso contro il regolamento Ha promosso dei siti che vendono Minecraft ad un prezzo minore Perché sono account rubati, hackerati Ha hackerato su tanti server promuovendo il cheating Cosa che non è ammessa su iPixel in alcun modo Ma la vera motivazione che è stata per la quale appunto è stato rimosso da YouTuber dal server È stata quella lì appunto di aver truffato quasi 2000 dollari Ad un editor che gli ha editato un sacco di video Si è approfittato del fatto che cavolo questo ragazzo ha 350.000 iscritti Non potrà mai truffare le persone con le quali lavora, no? Cheat Ha truffato il suo ex manager, ha truffato il suo nuovo manager Sono usciti fuori tutte queste truffe che ha fatto E' stato questo il motivo per il quale iPixel lo ha rimosso appunto dai membri dei YouTuber Ma ha creato un video dove sfruttava l'hype del momento del suo Depex e del suo Exposed Semplicemente per poter fare più visual inventando altre motivazioni per le quali era stato Depexato E questa è la sua tattica Non dire mai la verità Non raccontare mai quello che è successo Ma semplicemente andare avanti e andare avanti Con bugie su bugie su bugie E truffando nuove persone Questo è il metodo di Suchspeed che mi ha rimasto davvero a bocca aperta Mi ha scioccato Di come ragiona e di come va avanti questa persona Perché sono 8 anni che riesce senza problemi O almeno riusciva perché ora davvero è stato distrutto da tutti E finalmente forse ci sarà uno stop a tutto quello che ha fatto Purtroppo basta cercare Suchspeed debito E come vedete questi video dove dimostrano tutto Sono stati buttati giù Ci sono anche video altri di content creator Che ci hanno fatto appunto un racconto al riguardo E come potete vedere ci sono vari riapload di cose che ha fatto Dove purtroppo io non posso mostrarvi nel video Altrimenti molto probabilmente tra i video buttati giù Finirei anch'io Se ne capite d'inglese e volete leggervi un po' tutta quanta La conversazione appunto Trovate questi video semplicemente cercando molto facilmente Suchspeed debito Non bisogna mai sfruttare il numero di propri iscritti Per poter raggirare persone in ambito lavorativo Allo stesso modo non bisogna raggirare i propri iscritti Prendendoli in giro con finti giveaway Soltanto per poter fare più commenti più like Anzi proprio a proposito di questo Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti Io li leggo sempre tutti Magari qualcuno potrà pensare Eh ma magari non aveva i soldi per poter pagare queste persone Magari era in una situazione economica difficile Non è vero non è vero Perché nel frattempo che truffava queste persone Nel frattempo uscivano video su video Di suoi nuovi setup Con tantissimi soldi spesi Vestiti stracostosi che indossava in questi video vlog Dove mostrava la sua nuova attrezzatura Che costava migliaia di dollari E anche i vestiti appunto non erano da meno Inoltre se tu non hai disponibilità economica Non ti fai editare video da altre persone E soprattutto se non hai disponibilità economica Non è che c'entra molto con il fatto di aver truffato delle persone Perché le persone tu le hai truffate gratis Ti sei preso anzi tu i loro soldi E comunque questa persona Con il suo modo di fare Di tenere tutto nascosto E anche se vengono fatti dei video su di lui Continuare e continuare ad andare avanti Come tattica effettivamente ha funzionato Perché finché non ti trovi quel video che ti parla di lui Tu non sai nulla E magari appunto provi il suo nuovo client Cosa che per esempio ho fatto io Non sapendo tutto quello che fosse successo Vabbè che quando io ho fatto il video sul client Non ancora era stato detto nulla su tutto ciò Però il ragionamento è sempre lo stesso Cioè immaginate quante persone magari non ancora hanno visto I video che sono stati fatti su SuchSpeed E continuano appunto a guardare i suoi video Non sapendo quello che è successo Io spero dal lato italiano di aver contribuito a questa cosa Inoltre gli altri youtuber che hanno fatto video su di lui Hanno giustamente tantissimo invitato SuchSpeed A potersi di guadagnare una reputazione Un'immagine Semplicemente rimborsando queste persone Che sono state truffate Che sarebbe il finale più positivo di tutti no? Hai fatto un video su di me Dove dici che io truffo Io in cambio non truffo più E risarcisco le persone che ho truffato E quindi va a finire tutto bene Ma invece no Purtroppo signori SuchSpeed a distanza di sei mesi Non ha ancora rimborsato nessuno Non ha mai parlato di questa cosa sul canale Ha soltanto parlato del rank youtube Che ha perso mentendo E quindi purtroppo La cosa va un po' così Non è andata a migliorare per niente Ora come ciliegina sulla torta Manca soltanto che SuchSpeed viene E mi butta giù il video E stiamo tutti a posto Se non vedete più questo video sapete il motivo Tra tutte non so qual è la cosa peggiore Tra quelle lì che ha fatto Perché truffare migliaia di dollari È gravissimo Ma truffare Le persone che ti seguono Che ti vogliono supportare Che vogliono seguire il tuo canale Quello per me secondo me In realtà non ha per niente prezzo È una cosa veramente gravissima E nulla signori Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti Mi raccomando lasciate un bel like Per il ritorno dei video Nulla Ci si becca domani alle 14 Con un nuovo video Bella